buona sera eccomi qua scusate che non ho fatto nessun vlog ragazzi che comunque non sono scesa né ieri né oggi però voglio provarvi a fare un video trucco con i trucchi che mi sono stati e ora vediamo un po' se riuscirò a fare questo video come viene il trucco e l'occhio sta benissimo penso che deve passare un altro po' per vederci meglio però sta bene va bene ok allora io lascio qui e guardatevi questo video make up a dopo ciao 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 ed ecco qua avete visto tutto il mio makeup è questo spero che vi piace me l'hanno chiesti in molti nel video del mica eccolo qua e niente grazie per avermi seguito ce l'ho sentito un po' messo male però vabbè grazie per avermi seguito mi mando un bacione e al prossimo video